Cari amici e colleghi di Forever, sono qui oggi per indicarvi alcuni dei nostri prodotti con un contenuto di vitamina C pari al 100% della dose giornaliera raccomandata. Tra questi ci sono il Forever Super Greens con vitamina C insieme a un mix di frutta e verdura con proprietà antiossidanti. Abbiamo il Forever Daily con vitamina C insieme a sali minerali e altre vitamine. E poi ci sono il Vitorize Uomo e il Vitorize Donna. Una sala alimentazione insieme ad una buona integrazione contribuiscono a mantenere un buono stato di benessere del nostro organismo. Per altri prodotti che contengono vitamina C vi invitiamo a consultare la nostra letteratura aziendale. Un saluto, a presto!